buongiorno oggi facciamo fiori di ciliesio con forbici e carta quadrata questa qua è 10x10 prima piega metà orizzontale metà e alto dove c'è due strati basso e chiuso punto basso destra piega metà triangolo a destra piega e apre e adesso alto destra va giù e piega alto triangolo ecco qua c'è la punta dove si incrociano due dite hanno due linee e adesso la punta bassa sinistra porta sulla punta dove si incrociano due linee e piega e adesso combaccia questa linea qua e questa qua quindi piega questo metà e questo metà e adesso combaccia questa linea questa linea e questa qua quindi così così e piega e ora questo qua piega verso dietro ora disegniamo un petalo qua questa parte qua che è così e metta lì ed 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 Grazie.